E' la miglior merenda mai prodotta, l'hanno fatta per te, lacrime e sventura si abbattano su chi non sa apprezzarne la bontà, Claudia e all'albicocca. Mamma, mamma, sai che è la bicocca? Eh? Mamma, sai che è la bicocca? Amore, esprimi liberamente le tue opinioni. Mamma, non mi piace tanto l'albicocca. Non ti piace l'albicocca? Le guerre, la fame possono non piacere, le epidemie, un tendine reciso, la sifilide, ma non l'albicocca. L'albicocca non può non piacere perché l'albicocca è un teorema e la sua dimostrazione elementare è che l'albicocca non può non piacere perché l'albicocca a me piace. Era questo il tono di mia madre, non quello che facevo prima io, perché io lascio fluire, io non giudico, io ho fatto delle terapie, sai? E ho seguito dei corsi. Sì, infatti Claudia, guarda io, te lo posso dire spassionatamente, eh? Tu sei tua madre più i corsi per non esserlo!